mi siamo un sacco figa mi siamo un sacco figa quindi appunto la andiamo a vedere è l'apocalisse è un facce un facce un facce un facce un facce ma in verità si metterà anche un po' di inquietudine sarà molto figa molto anche romantica se volete però metterà anche un po' inquietudine cazzo la luna rossa è come dire che ne so il ciberio sobrio e ripulito no dalle sostanze è una cosa stranissima sarà romantico per il gruppo delle salsicci no Ivan non è solo salsicci come va con l'università quanti esami ti mancano 4 come al solito mi sono dimenticato di mandarti i beats vedo il rinato che esce dalla luna i miei ultimi beats quindi tira fuori la eat on the earth si tranquillo defo con calma vado vado con ordine domani con il cane sul balcone tutti a guardare la luna il cane sul balcone aspetta da mesi in privilegio la vedrai in compagnia della tua ah no ha ha saldier che ridere allora buonasera grande diddo grande sei un grande andiamo false Carla fai il tuo lavoro e leggi questo cazzo di messaggio comunque buonasera a tutti autistici buonasera a te false buonasera a tutti buonasera a tutti domani visto che c'è la luna rossa domani spoilerò il nome di domani visto che c'è la luna rossa domani spoilerò il nome in live ah no aspetta non c'è live anche te anche te e va bene mi sono perso il filo ecco vedi a darmi i tuoi soldi forse mi fai perdere il filo Jessica per la prima volta nella mia vita sono in anticipo hyper sai comunque buonasera al ciclo buonasera anche a te Jessica appunto queste cose sono sempre fantastiche e interessantissime grazie Jessica prossimo lodo loca buonasera amici buonasera re come state io sono uccisa cosa vuol dire parla giusto che schifo che fate ma stasera ma stasera riuscirò finalmente a parlare in diretta su comedy night a parte che non sai scrivere parla bene comedy not carsmila carsmila alla fine mi sono ricordata il fatto che dovevo dire ieri quindi ve lo narrerò durante la cringe night ok sono dance game ci odia dance game ci odia dance game insulta e vabbè e vabbè quindi Tommy buonasera a te a tutti ah no non ho commentato niente crotalo però vabbè non c'è molto da commentare in verità sono curioso di vedere il racconto che farai crotalo sono curioso di sapere il racconto che farai su comedy noct dato che non sai scrivere e scrivi dov'è comedy noct eccolo qua comedy noct vergognati vergognati ci odia dance game me ne vado me ne vado il cap del magazzino megalul poi Tommy buonasera a te a tutti giù di come stai grazie Tommy grazie Pepe per i pizza spero tu stai bene spero state tutti quanti bene ho le mani enormi oggi non capisco perché abbia delle mani così grosse oggi non so ho delle mani strane me le sento enormi oggi me le sento enormi le allodo le dance game odia le allodo le dance game odia le allodo le dance game le allodo le dance game odia le allodo le dance game magari anche buoni quindi attenzione magari col sughetto forse qualcuno bravo cresce a sistemare il mio cazzo ho toccato a Kpride tutti i tasti possibili e immaginabili forse io non ci capisco niente in ste cose come puoi vedere dalle difficoltà che sto avendo in tutti sti giorni con OBS se c'è qualcuno bravo spero che ti risponda appunto ovviamente lo spero col sughetto di Dovoo mani strane le mani affusolate sì le mani filiformi perché ho le mani strane affusolate estremamente grosse lunghe longiline e le dita al tempo stesso filiformi quindi sono un po' strane ho perso le cuffie del microfono giù da ballerino intacco 12 crotalo sei veramente pessima ok crotalo lui sarà fuori casa perché deve evocare tu Lucas Miller no ma c'è la luna rossa metterò anche una storia su su instagram su pinterest su picasa su su flipboard ok ragazzi metterò una storia su tutti i social che esistano così ve la faccio vedere come 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 filiformi sì filiformi no tumblr no tumblr non è per niente conosciuto mentre quelli di cui ho parlato comunque sono i social più usati più mainstream attuali te l'avevo detto jo quella che ti esce dal culo non è cioccolata ovvio che poi diventi Gianni Moratti grazie Michele avrei dovuto ascoltarti falham forse io ti lascia vuoi mangiarmi con il sughetto d'ansgame è chiusa la Allora, che puoi essere sinceri, è anche abbastanza ambivo quello che dice, eh Lodo, stai attenta. Comunque, forse, io ti lascerai toccare il mio cazzo tutto il tempo, comunque non è gay se le palle non si toccano. Ah, vabbè, forse, allora direi che è fare fatto, scusami, direi che non c'è neanche da starci a pensare, ma anche se fosse gay, anche se le nostre palle si attorcigliassero, stai tranquillo, forse, tranquillissimo, cioè non è, non è un problema. Manu, è l'apocalisse, Woodface, domani secondo me sarà abbastanza inquietante, sì, sì, domani sarà abbastanza inquietante. Perché l'Omega Roll non è ancora tornato? Io l'ho messo ieri davanti a voi, io l'ho messo davanti a voi, io l'ho messo davanti a voi. Luna rossa, ottima per un 3. Luna rossa, ottima per un 3 esome, po'. No, no, ah ma no, c'è, c'è, c'è l'Omega Roll, ragazzi, cos'è che mi trollate? Comunque, ad alcuni va, ah è con 3L, ah è stato, perché è cambiato, ok. Ora è, ora è con 3L, a quanto pare è cambiato. Comunque, Defoe, no, no vabbè, devo andare con ordine, quindi. Il re esce dalla sua stanza, ti hanno lasciato libero, hai per nulla. Sì, forse, mi hanno liberato dalla cattività, posso anche uscire adesso. Defoe, come al solito mi sono dimenticato di mandarti i beats, mi perdoni mio re, i miei ultimi beats è quando tira fuori Leighton Derby. Defoe, Defoe, ti basta chiedere e sei accontentato subito. Zaea proprio. Eccolo lì, eccolo lì, cioè basta chiedere e arriva di colpo. Ragazzi, calma con gli Omega Roll però, calmissima, calmissima tanta, eh. Oh, grazie Defoe. Tommy, Jerry Scotti appena abbiamo avuto, non lo voglio mai, immagino. Forse, domani visto che c'è la luna rossa, domani spogliere il nome, questa voletta. Odiali all'Odel, l'avevo letto, vuole mangiarmi col sughetto. Odola, non farmi ste proposte magari davanti a tutti. ma Carla come dice bene sughitto 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 si le piace bastante c'è un po' quella sorta di come dire insomma così si si così si una sorta di no soddisfazione mentre lo dice oggi ho scoperto che c'è gente a cui eccitano le ragazze che fanno escrementi davanti a loro si si chiamano copro peliaci vediamo un po', allora ragazzi allora c'è una parola che indica una cosa che eccita le persone sessualmente ma che in verità non dovrebbe cioè delle cose strane, ad esempio ci sono persone che si eccitano col dolore ad esempio persone che si eccitano con i bambini sono pedofili, persone che si eccitano rubando però ci sono parole parole che indicano le eccitazioni di una persona nei confronti le eccitazioni di una persona nei confronti di qualcosa che non dovrebbe invece eccitarla parafilie mi sembra si chiamino, parafilie DIO! parafilie, non stava scrivendo, eccolo qua, lista delle parafilie, ok posso scriverlo su google che non compare niente parafilie, adesso vi mostro adesso vi mostro Dio, Omega Roll allora osservate questa è una lista non credo neanche completa delle parafilie poi ci sono persone che si eccitano con gli opilioni che esatto esatto la opilionifilia allora vedete in questa pagina è presente una lista infatti non completa delle parafilie ossia di quegli interessi sessuali che hanno per oggetto determinate situazioni cose, animali particolari zone corporee o individui atipici chiaro? quindi facciamo degli esempi acquafilia attrattiva verso attività sessuale in acqua vai acrotom abasiofilia persone cioè eccitazione verso persone con mobilità ridotti ok in pratica gli abasiofiliaci si eccitano con le persone in sedia a rotelle in poche parole acrotomofilia persone verso persone con qualche amputazione mi fa ridere sta cosa non vuol dire nulla abbiamo trovato la tua patologia psichiatrica no amico nulla odia i disabili feels ok man arpaxofilia essere derubati che queste persone si eccitano letteralmente ad essere derubate ok insomma questa se vi volete divertire alle spalle delle sfortune altrui sono una lista delle vedete dacrifilia eccitazione verso le lacrime o il pianto daia per fetticismo dei pannoloni vedete insomma clismafilia fare o ricevere clisteri bene quindi detto questo come vedete esistono non so come abbiamo fatto arrivare a questo discorso come abbiamo fatto arrivare a questo discorso ah ecco le ragazze che fanno gli escrementi giusto ok vedi monca christ lo so ragazzi lo so io vedo peggio quelli che si eccitano con quelli paraplegici ecco quello secondo me è un po' peggio cioè nel senso è un po' peggio è un po' più folle sarebbe più per me è più facile eccitarmi che non lo so in acqua piuttosto che con un paraplegico cioè nel senso va bene questa frase era meglio non dirla perché può essere presa molto fuori contesto luna rossa come 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 allora ametta no questo l'ho letta defo luna rossa ottima per un trisum defo non mi ricordare le cose brutte che ho già che ho rifiutato cioè le cose belle che ho rifiutato in passato per troppa integrità morale ok per troppa non belligeranza sentimentale saldier feels weird man eh sì lo so sempre ti ecciti con la luna di sangue odia scopare con i con i disabili no ma i calma Carla come dice bene sughetto questo è vero io domani sera sono probabilmente ubriaco e ho fatto quindi vi farò sapere di che colore vedrò la luna Galaxy sono estremamente curioso faccelo sapere faccelo sapere Cri Cri e se domani è nuvoloso che luna guardi è vero se domani è nuvoloso è la fine è la fine domani è la fine devo eh non so non so cos'era quel no ah ah poi ci sono persone che si eccitano con i coglioni verissimo ho rubato le cuffiette di mio fratello vedete l'odo è afflitta dalla cleptofilia si eccita rubando bene abbiamo trovato l'autopatologia psichiatrica ma sei come stai devo dire una cosa leggi con voce forte alzando la voce un po' io mi scopo le vecchie e mi piace figone stupendissimo non so più come dirtelo se la carbonara è Susan è buona zero Susan grazie ciccio grazie per andare mi fa turlare le cose la porta è chiusa la finestra è chiusa ma le voci escono comunque allora però tanto la dignità a cosa serve Andre Andre allora dove sono io eccomi no dove cazzo sono aspettate perché non mi tocca cioè non mi prende eccomi eccomi qui eccomi qui ok prendiamo ora questo cazzino lo mettiamo qua lo mettiamo qui lo mettiamo qui perché si è visto a casissimo adesso ad esempio la vita del boss scendere a casissimo ah perché ho fatto un follow upgrade rival grazie per il follow eccomi qui perché devo essere preso in giro per tutto allora già vedo la prima e già mi spaventa allora noi dopo ieri lo sappiamo è guai dove sono io noi dopo ieri lo sappiamo non così non così non così non così per favore visto che hai appena detto che la dignità non ti serve è il momento di un smr con lo smegma smr ma quanto vuoi smr non lo so non sono così bravo però cioè sono bravo a fare questo però è difficile fare l'smr bene ladies quindi tolto questo quindi niente non parte non parte rimane perché è troppo viscoso ragazzi si appiccica proprio vedete vedete proprio si appiccica soon you you is bo su su eh non ho capito sbatte di no no forse devo schippar tra l'altro questa che twitch impazzisce quando si parla di swatting grazie forse puoi fare la cosa di rimpiccerire la webcam credo di essere uno dei pochi a riderci sopra hyperlute come scusa intendi dire così mi fa ridere a me fa ridere ok basta a me e a nonno bob fa ridere questa cosa perché sono piccolino in alto che mi agito a noi fa ridere questa cosa ok vedete che sono piccolo sembro un pipi hop vedete hyper ah 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 manetta però a me fa ridere a me a pochi altri fa ridere actually retarded a me a pochi altri fa ridere basta allora cosa abbiamo no no tu lo dicessi che essere svuottato deve essere una cosa fia e quindi lodo e quindi può darsi che non ero io ma indossavo qualcuno che indossava una mia maschera scusa eh può essere stato un impostore un impostore lodo è chiaramente un impostore chiaramente fai una live così please allora eh Pepe Pains allora svuottato as fuck allora linea bus 7 questa già è sbagliata però eh attenzione 16138 abiti in un condominio a piano terra il condominio al giardino presenza di rane nella sua zona no triangolato as fuck e in chat tutti che dicono qual era l'autobus giusto eh vabbè sì sì a 14 tutto con bacio fra l'altro perché se cercate il 14 fa questo percorso qui effettivamente ho scoperto precisamente dove abiti non ti sbattoli non credo ma tu l'abbia scoperto precisamente se no è la fine per me è la non hai più scampo chiedo i diritti perché hai appena rubato il video meme di me ma è la fine è appena rubato il video meme di me giubitel sono tu ipotetico rapitore sostituto sgamate nelle vostre idee visto visto perché sono un genio cazzo un genio un genio incompreso ma comunque un genio ragazzi mi state fottutamente reddit migliore di batman si io vedete perché ho paura di reddit vedete perché per questo motivo reddit può fare tutto se vuole vedete intanto lo spam di reddit può fare tutto io per quello che non vi ho mai detto vi sfido perché so che potete farlo perché so che reddit ne è capace quindi vedervi raccogliere le informazioni metterle tutte in colonna minuziosamente vicino a una cartina che presupponendo sia giusta include anche casa mia è no è incredibile come cosa è abbastanza spooky è abbastanza creepy no e quindi io non sfiderò mai reddit perché vince comunque reddit in ogni caso ci sfidi feels ok man no perché vincete voi c'ho paura no 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 pepehens no ho detto presumibilmente ho detto eh pepehens no ragazzi sta a coprire qui siamo qui siamo qui per divertirci e non per piangere contando anche che domani poi non c'è live oggi non dobbiamo piangere ciao re pischelletto finalmente riesco pure a bizzare e la sfrutto per una cosa importantissima sì ma è possibile che io abbia visto Bubino al concerto di Gemitai Satorino sì c'era sabato 24 oddio sì c'era c'era sì c'era mazik era lui era lui ha messo anche le storie su Instagram era lui no un Bubino avvistato no no Bubino avvistato in giro per il mondo Pog Pog avvistato così in giro per il mondo è detto così mazik sì sì c'era lui c'era lui ma non me l'aspettavo sta cosa un Bubino sei selvatico avvistato a meno che non mi sbaglio Bubino era era appunto a un concerto mi sembra l'ho fissato in modo inquietante nel bagno ma non gli ho detto nulla se provi a chiedergli si ricorda di sicura glielo chiedo subito glielo chiedo subito allora eh allora aspettate allora Bubi ti faccio un vocale ora al volo una cosa tu eri al concerto di Gemitai a Torino sabato 24 mi sembra di sì perché mi sembra tu fossi cioè non sabato 24 no forse sì vabbè non questo che cazzo di che vabbè aspettate lo rifaccio ciao Bubi allora ti voglio chiedere una cosa scusami se il vocale è molto improvvisato alle 10.43 allora in pratica il la domanda è tu eri al concerto di Gemitai perché a Torino perché ora sono in live e uno degli spettatori mi ha chiesto ma Ditto ma Bubino era al concerto di Gemitai a Torino perché l'ho fissato in modo inquietante nel bagno ma non gli ho detto nulla quindi cioè non sapeva se eri effettivamente tu a me sembra che tu sia andato a un concerto se riesci a confermarmelo entro l'una mandami un vocale che lo faccio ascoltare in live se non eri tuo vabbè tranquillo ok ragazzi vediamo se effettivamente poi succede qualcosa vediamo siete degli spettatori avete visto spettatori dance game un'ora di vocale dance game ho capito e gli dovevo spiegare un po' la cosa ci reputa spettatori dance game e ho capito Jessica ho capito ho capito ma tutti tutti no no quel vocale poteva durare benissimo 10 secondi ma non è vero ma tutti ma tua madre è una spettatrice dance game ma sempre meglio di quello che dite quando siete su cringe night carmi pog va bene ecco il giornale bambina di 10 anni scomparse in un bosco era l'amante di un noto streamer no non è vero fatto so a chi ti riferisci Ivan ne avevamo parlato in privato con che gambine con quali gambine cos'è a cavallo della fontana monca S al bordo della fontana si questo è a bordo della fontana l'incredibile a bordo della fontana però forse si sta riferendo anche a una meme che gira cioè so a che meme ti stai riferendo forse l'ho capita qual è l'ho capita qual è ed è fantastica grazie forse questa è davvero bella signora Pasquali lei dovrebbe mangiare meno sushi ma a me piace il sushi odia mangiare altri se i dottori in real life fossero come voi esatto esattamente salvo subito è bellissima è bellissima ragazzi stasera l'occhio umano si può espandere fino al 55% quando guardi qualcosa che ami 2209 col D2 dentro cosa dolce questa cosa bella grazie casa sta qua una cosa bella ti mando un vocale di 10 minuti soltanto per dire senti i boobinciati dicono di averte visto il concerto di jammy tides tu eri veramente lì ok potevi dirmelo prima di dirla in questa maniera ok io l'ho messa alla mia maniera tu ora hai passato gli ultimi 3 minuti erano le 10 e 43 ora sono le 10 e 46 hai passato gli ultimi 3 minuti a costruire una frase in modo tale che risultasse più breve della mia sono capace anch'io se ci penso ampiamente dopo durante 3 minuti di pensiero critico eh controllo se ha risposto potrebbe potrebbe no non è lui è Sarah Shewell che mi scrive sotto la foto di instagram fregno exposed exposed Sarah che mi prende tanto in giro e poi sotto le foto di instagram mi scrive queste cose se non ci credete controllate se non ci credete controllate vedete il doppio il doppio la doppia faccia che hanno queste persone vedete la doppia faccia che hanno vedete mi senti patico gnagnagnetti prendo in giro però poi scrive queste cose brava brava se non avessi le tette cibernetiche guarda allora questa cosa è molto dolce ma non l'ho anche salvata vero sì l'ho salvata sì ok l'ho salvata è davvero bella e mi sento in colpa per domani ma scusami ma basta forse non è mica l'unica persona che me lo dice zundere iperlullo basta ste parole di merda wib maledetti non so cosa vogliono dire me lo sono già dimenticato zundere zundere yandere yundere 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 zundere e yandere yandere afrimorchio 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 grazie false questa me la ricordo me la ricordo ragazzi ragazzi pezzi di storia del canale mi presento ciao antirenti ah ma noi già ti conosciamo antirenti che cazzo vuoi sto scherzando stai tranquillo ciao giordi e tutta la femmini farò una breve presentazione perché si avevo voglia ho 18 anni mi chiamo giovanni già lo sapevo seguo video da circa 5-6 anni ho cominciato a seguire live da un anno credo non ricordo su twitch mi chiamo webpsycho doctor e sono di quelli che ho qualche o quando scrive in chat o scrive poco o non scrive proprio e si gode la live autistica con la chat più tossica lul ogni giorno mi diverto un sacco a guardare le live anche perché mi tenete in compagnia dato che la sera non ho mai nulla da fare quando non esco cioè quasi mai face rain man detto questo la finisco qua dicendo che sono felice di far parte di questa toxic family vi voglio bene toxic chat forever qua un cuoricino toxic feels good man club non odio gli spettatori no non odio odia la family odia la family odia la family odia la family ma che brutto accento tra l'altro booby odia la family odia la family odia la family odia la family io tengo il telefono ora faccio così tengo il telefono con la vibrazione qui così se vibra controlliamo subito chi è se è booby ok non odio la family non è vero new so much cancer face good man club odia tutto odia tutto odia tutto odia tutto odia tutto dai bel figone sai il mio nome posso dire il tuo nome instagram intanto cara non ti faccio uno shout out di instagram perchè non perchè non te lo meriti ha vibrato potrebbe essere lui no non è lui ma che cazzo persone che mi che mi spammano su instagram cioè voi è una di voi che spamma su instagram per dare fastidio oh ok ragazzi ora lo tolgo grazie mi serve per capire se è booby e questo è Ivan se stai ciao se stai cercando una risposta di booby non la troverai non ti caga nessuno grazie Ivan grazie grazie bene bene quindi tacadoc grazie per il follow odi la family non è vero non è affatto vero ametta dai bel figone sarà il mio nome non ti dico il nome stavo per dire appunto di istinto il nome instagram ma col cazzo che ti faccio uno shout out che non te lo meriti però il tuo nome è troppo facile dirlo cara ametta jessica ragazzi ora ora vi stacco le budella guarda quante persone mi stanno scrivendo solo adesso ok ragazzi lo metto sul letto adesso se mi iscrive booby non lo potremo mai sapere a meno che non mi giro faccio una traslazione su instagram così vibra mandategli messaggi su instagram sono stata io a darti fastidio ecco ecco ancora lo sento in lontananza che vibra quindi odia tutto odia tutto non è vero jessica ricky perché non sei il mio di nome lo so stefano ma date gli messaggi su sinistra così vibra grazie a me non conosci che non è fobos war in effetti te potrei non conoscerti per ancora due orette circa di live poi appena la live finisce dammi tempo 30 secondi so già tutto di te michael vibra trema ma è lui o non è lui certo che non è lui esatto cancer chat fix good my clap esatto antonio esatto best spam enti renti davvero grazie per quello che hai iscritto che sei felice di far parte di questa famiglia autistica grazie davvero di cuore del fatto che ti facciamo compagnia che trovi appunto compagnia e divertimento in live grazie mille grazie di cuore davvero enti renti grazie mille di cuore grazie mille un bellissimo messaggio grazie vediamo andando avanti cosa accade allora le sto cercando di aprire più alla volta così finisco la pagina intera mi dà una sensazione di ordine e pulizia incredibile nostra didus ok la l'uomo che prevedeva i bug la realizzazione è simpatica ma la cosa migliore è il nostro didus il nick il nome è simpatico il nome è simpatico Bubi ti ha scritto me l'ha detto lui si si forse me lo immagino proprio uguali identici 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 moncamega la storia di rossella da via col vento a transessuale storica di genova ragazzi io direi che qui abbiamo da guardare io direi che qui questa sera abbiamo da abbiamo da guardare abbiamo un nuovo materiale per le per le meme eh dopo dopo salvatore dopo carlo in parte anche melina quella dei quella dei graffi quella che ruba le statue la barbona di merda e dopo eh ovviamente l'uomo della sporsissia avremo una nuova meme trappone feels good ok lo apro questo guardiamo 14 minuti non li vedremo mai identici dopo un litro di candeggina sono identici dopo un litro di candeggina ma chi ma chi non so chi il mio nome non lo ricordo sicuramente anche se una volta te lo dissi creeper craft ti lascio il beneficio del dubbio anche se secondo me lo sai che cioè anche se lo sai che lo so però non sai come mi chiamo non mi conosci ragazzi mettetevi in testa che sono il nome di tutti ok bubi ti ha scritto come ti chiami su insta dido joe uguale identico a instagram cioè uguale identico a twitch solo che in mezzo c'è un trattino basso e io come mi chiamo vabbè ho già fatto sta battuta e non far ridere comunque oggi diceva costo 200 non l'ho aumentato io è twitch che ha cambiato le cose sono identico dopo un litro ma non so di chi parli da via col vento a transessuale dici ma morde no ma ti può far male in altri modi dido non è il tuo posto di reddit o il blocco non è affatto vero io cerco di leggerli sempre tutti non è vero nuovo video che ho bozzato stamattina spero vi piaccia non ricordo che quello di gringo mettono i video è ironico ho fatto per fare di vetro e non voglio offendere nessuno con quello che faccio ok cos'è sta roba ma è carina in verità questa cosa come ti chiami su instagram ho lo stesso nome che ho su instagram come come dov'è come ti chiami su instagram ho lo stesso ho sbagliato manu ho sbagliato ho sbagliato ma è carina in verità questa cosa disperazione perché si è leakato il cappo no porco no per salvare prontamente la situazione ma che cazzo ne so che in alto a sinistra su amazon c'è il cap ma cosa vuol dire ma non vuol dire niente ma tanto è quello sbagliato ragazzi lo ammetto sarò sincero con voi su amazon cosa faccio metto come indirizzo di spedizione la no la villa la casa che ho adibito a magazzino per gli arrivi dei dei corrieri chiaramente quindi quello è dove si trova la villa magazzino ok quindi non ci trovate me c'è un magazzino ci metto la roba e quindi eh e quindi se voi non ci credete è un problema vostro non mio oh no oh no sempre lui è grazie a questi piccoli errori che ti sta pian piano triangolando no gli errori dovrei dormire con l'occhio aperto d'ora in poi no no pure in viola pure in viola no io c'ho paura cosa c- c'è qualcosa ah no ok non c'era niente alla fine ok ok il cap del magazzino moncafì è uno dei dei video più belli che abbia mai visto complimenti ad the club hyperlul no davvero bello è vero davvero bello galax davvero bello grazie magix grazie galax davvero bello davvero davvero bello soprattutto perché non c'è solo k sulle tue tracce giordi lo so crotolo lo so che ci siete tutti c'è un intero subreddit sulle mie tracce in verità c'è un intero subreddit quindi grazie grazie lo so lo so comunque no galax davvero bel video davvero bel video grazie mille grazie davvero bello dove sono i miei oscar le autistique e twitch meme siamo il ddo v k io il tryhard il ddo u giusto così giusto così dovrebbe essere grazie guardate la cultura che vi sfoggio quello base dovrebbe essere le miserabili guardate che cultura è che cultura che vi sfoggio altro bolding ma si va in campeggio no basta dai lo facciamo stasera bolding basic field trip demo cos'è stasera cosa cambia ah no niente mac linux ok ok facciamo questa sera facciamo questa sera dai pasark secondo te perchè nei negozi tipo gamestop è possibile trovare funko secondo te negli stop è possibile trovare funko rari sì assolutamente sì eraldo ma ci vuole un più culo che anima io ne ho trovati due che il cui valore il valore di entrambi era ai tempi l'ho trovati due tre mesi no cinque sei mesi fa più o meno a gennaio più o meno a gennaio quindi sei mesi fa e ognuno valeva cento centodieci euro e ora invece uno dei due è salito a centottanta euro quindi sì assolutamente sì ma ci vuole un culo assurdo però sì si può firewell tarocco virus ma non è vero è itch.io dovrebbe andare bene dovrebbe andare bene pasar contiene i negozi tipo ok questo l'ho detto ci fa pagare tre euro per comedy night non lo fa really allora c'era ita ho detto una volta sì una volta no perchè l'altra volta siete voi che avete perso il controllo e avete incominciato a dire parole che non si devono no cosa sto vedendo parole che non si devono dire ci ho messo tre ore per ritrovare questa canzone di frank sinatra quasi nessuno la sa per me è bellissima dal minuto 3 12 dice una delle frasi più belle allora innanzitutto già a priori per aver linkato queste queste persone poi facendo finta di niente cos'è sta roba la metto a atlian x è comunque meglio no no lui è un'altra lettera del signoresse basta signoresse c'è rotto con queste lettere anzi sai cosa ti dico questa è per te signoresse signer mo ha 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 non ho capito perchè si natra ma metti un moderatore su coni ma non c'è un moderatore signoresse signer mo ha 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 da 3 12 fish badman impiccato da 3 12 ma finisce a 3 12 dal minuto 3 12 dice una delle frasi più belle ah che c'è vinto quanto c'è vinto ok va bene va bene ci sono cascato tantissimo ok ok va bene ok avete vinto voi mi sono anche dovuto sosporbire 3 secondi di 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 cancer face goodman clap pre preferisce stalkerare minorenni su instagram invece di startare la live ma se non è vero quando voi dici quando manu quando tu hai scritto ma è online su instagram la live è partita in quell'attimo stesso quindi no quindi non è assolutamente vero non è assolutamente vero c'è un porno c'è un porno vabbè forse non è un porno ma è qualcosa che non posso far vedere ma non era una bestemmia forse non era una bestemmia era una crasi basta era una crasi basta non è vero leaked leaked as fuck leaked ma non è vero ragazzi non è giuro che non è vero guardiamo cosa ha scritto Bubi se se Bubi ha scritto qualcosa madonna che fastidio sì 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 ero io ero io infatti me lo ricordo un ragazzo che mi ha fissato in bagno che sono uscito un po' stranito e dicevo boh non lo so chi è cosa vuole eh sì allora allora sì ero io al 100% ero lì è lui ero lui a parte che io pensavo che la gente è capace di riconoscermi via del tuo canale pensavo che for mai fosse finita che si fosse estinta non esistessero più in circolazione di persone che si ricordassero di me hai visto Bubi e invece e invece tutti ci tutti si ricordano ancora perché sei nei cuori sei nei cuori cazzo te lo devi ricordare oh e quindi niente grazie per la per la conferma in chat sono impazziti tutti grazie per la conferma ci sentiamo dopo e come come vedi appunto tutti ancora ti amano olè ok ragazzi porco il vostro mi state facendo vibrare staffare peggio del mio trinchelino parlagli del muretto ma noi lo abbiamo vissuto cosa mi serve a parlargliene io e lui lo abbiamo vissuto con baci e carezze neanche Bubino a fiducia in te nessuno Jessica è Phil Spadman grazie Jessica allora aspetta che qua devo abbassare il trinchelino che qui no porco perché c'ho mille cose aperte qua nel culo oh ok ok è come avere un sacco di cose nel culo e non riuscire a spostarle ok bene 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 ok andiamo quindi questo la tolgo ma non mi sembrava il caso di dire ma tu sei quello di Trivia ma tu sei quello di Trivia con quell'amabile autistico di Giordi comunque ora mi sento molto meglio invece avresti potuto Matzik invece avresti anche potuto che figa da però incontrare Bubi a casissimo a Torino al concerto di Jamie Tides ma se le emoti con i bretti tui CV non vanno perché non fanno uno screenshot alla lista e poi la posti su Reddit sì infatti è quello che devo fare Master Lupo ed è quello che mi dimentico di fare come portavoce del gruppo Whatsapp della Femmino che amministratore e fondatore invito chiunque a partecipare ok quello lì non c'entra con me triangolazione l'icad e chat che uniscono le forze per triangolarmi ma sei quello di volley pollo Pog live su Fortnite con Jamie Tides e Bubino a mani basse vediamo cosa offre la casa oggi Terra Tech Early Access costruzioni mondo aperto sandbox ok non mi sembra bello Stardew Valley l'hanno giocato un po' tutti non è un gioco fra l'altro per le live è lunghissimo cioè è lunghissimo è tipo Minecraft è un po' infinitino potato thriller mi sembra che l'abbiamo già giocato pc building simulator credo che mi bloccherei al tutorial shark dating simulator XL oh mio Dio no fuori dai coglioni tutti tutti quelli che giocano a sta merda tutti fuori feels weird man ancora l'ho aperto sto prendendo possesso del mio telefono avere il D2 come sottofondo della tastiera deve essere qualcosa di terrificante in effetti è terrificante grazie Galax ma è terrificante da ormai molto tempo da anni ormai non ti seguivo più e che dire che ero con te fin dagli inizi si parla di quando tu con il tuo cespuglio in testa iniziai a fare video su youtube ma un giorno la rivelazione noto sul tuo canale ormai che cadevo morto il riapplood di live lì la gioia si impossessò della mia giornata da quel lontano giorno scaricato ogni singola live me le sto vedendo tutte e un giorno mi metto in pari con tutti voi un abbraccio un urlo autistico a tutti voi family e a te dito continua così e sempre ci solleverai le giornate ps sono adesso arrivato al live del 26 aprile sarò felice di sapere in un utono futuro della tua felicità nel leggere questo se lo farai rex roma oddio no no non credo no non credo mauri no non credo non credo che sia rex non credo no non credo wow w w omega lull w nel senso perché devo sempre eneblare le meme della chat devo sempre triggerare le meme della chat non lo faccio apposta allora è un progetto guardali è un progetto estremamente ambizioso il tuo nel senso che complimenti per voler fare questa cosa ti ringrazio davvero di cuore grazie davvero di cuore perché è davvero tanto è davvero tanto quello che stai facendo le live da vedere saranno tante e il giorno che vedrai questa live dove ti parlo a distanza di mesi nel futuro nel passato è una cosa assurda una cosa davvero strana una cosa incredibile quindi grazie mille rex perché è davvero una cosa che mi rende davvero molto fiero molto felice molto orgoglioso molto onorato quindi rex grazie davvero di cuore sei gentilissimo grazie davvero e spero che tu ti possa divertire sempre e spero che tu arrivi a questa live e anche alle prossime grazie mille rex chissà poi quando lui vedrà questa live no è una cosa strana ma visto che Dido è un gran marnazi se scrivebbe in questo modo lui si arrabbia non vedo perché dovrei arrabbiarmi se è davanti al nulla di sbagliato scusa Dido scusa chat se non sono riuscito a postare il video grazie in te però è andato per un po' di diserni non potevo volare comunque ma stai tranquillo old block allora quello lì è un tuo progetto è un tuo progetto che mandi avanti tu che io non ti sto a chiedere quindi anche se tu ci mettessi un anno tra un episodio e l'altro a me va benissimo così stai tranquillissimo nessuno pretende niente tranquillo arabia anele anele clap gucci gli invidiosi diranno che aveva photoshop esatto appunto appunto gli invidiosi invidiosi perché invidio perché vorrebbero la mia opulenza monetaria poter andare da gucci farmi i selfie insieme agli slender invece la reazione di Dido quando su amazon viene mostrata la via Dido C non sapevo che amazon mostrasse il cup tanto non è il cup sapessi quanti progetti ho iniziato e mai finito io tanto nessuno mi troverà Dido C grazie Dido 29 grazie cosa c'era in quel crash quando pensi di aver visto Bubino in bagno che è la chiaramente l'espressione che è più spontanea modzetasf oppure modzetasf grazie per il follow click pcb in seguito è un gioco davvero che ne trovo così potrebbe essere un buon passatempo negli ultimi minuti non lo so non lo so non mi sembra così adrenalinico tranquillo amico sapessi quanti pro pro progetti ho iniziato e mai finito io esatto infatti crotola appunto questo non lo sapevo nitrocell a me è di Chara questo non lo sapevo nitrocell Chara non dire Chara this weird ama le minorenni odie disabili viene sugli opinioni immaturo si fa triangolare dalla family must be did the job con che faccia da me da emoticon new emot as fuck ok la salvo la salvo questa potrebbe effettivamente essere una nuova emot potrebbe tranquillamente essere quanto è bello il meme con le spunte quanto è bello il meme con le spunte cazzo grazie Mike grazie Mike il meme con le spunte è veramente troppo bello troppo new emot pog potrebbe davvero esserlo eh si oddio Ivan twitch è meglio di youtube abbiamo la chat cancro l'interazione il colore viola e le puttane noi non cerchiamo di essere il più ridicoli possibile allora Ivan allora dov'è qui il coso aspettate che ho perso la ciabatta vieni qui ok allora ascoltami molto benissimo Ivan puoi prendermi in giro quanto vuoi puoi fare quante meme vuoi ma non puoi negare che ciò che io dico sia la verità vera non puoi negare che ciò che dico sia vero non puoi negare non puoi negare caro Ivano che è vero puoi farci le meme puoi spottermi puoi prendermi per il giro ma non puoi negare che sia vero oh my dream is a chat full of pipi op my dream is a chat full of pipi op ciao diddo eh si adesso mi inviano i palazzi a casissimo sperando che io mi triggeri sperando che abbiano azzeccato il mio allora autistic lull questa tattica non funzionerà ma quindi il sito che frequento io per le info sui rani chiamato arachnofilie popolotti da maniaci che sbordano sugli opinioni no quello è il mio sito cosmo questo sito è chiamato arachnofiliano arachnofiliano non lo so Ivano quando conosci una tipa scopri che ha 8 anni ma poi cosa vuol dire scopri che ha 8 anni in che modo lo vieni a scoprire come non te ne accorgi cioè dico meglio per carità però come fai non accorgertene oggi voglio portare una cosa introdotta da quello che sembrava un normale utente ma poi rivelatosi un percatore compromesso del re l'inno church music e via liquid non è liquid michael dov'è la musica? odido ore caro bless rng a te il nostro autismo a te la nostra sborra a te il nostro sangue autistico ore noi ti aiuteremo tutti trionferai su Fabio e la tua invincibile corte avrà per motto immortale il re la sborra e l'autismo il re la sborra e l'autismo il re la sborra e l'autismo bless rng a tutti ragazzi bless rng a tutti bless rng a tutti a tutti quanti ragazzi ora vi siete vi sentite più liberi più puri più puliti più benedetti no? più come posso dire? più più no? più a contatto con l'io interiore che mai sarà abbastanza per ciò che non si è in questo corpo concreto all'interno del quale siamo in schiavitù vi sentite? è perfetto è qui dove tengo le minorenne se solo le avessi ciao Oscar allora queste battute sui minorenni proprio sono di cattivo gusto ok? io non ci scherzerei mai non andrei mai con una minorenne non capisco assolutamente queste cose non lo capisco e ora Rossella da Via Colvento a Transessuale Storico di Genova ci sentiamo più benedetti parodi Michele Fitzwirn ci sentiamo più benedetti parodi ok sì sì no ci sono messo via c'è chi fa pipì così ed è uomo ma non fare il sesso in mezzo alle gambe non sempre corrisponde all'identità di genere oddio è stato Rossella Bianchi una transessuale amica di Don Gallo è prostituta storica del ghetto di Genova che sono d'accordo con lei il ghetto non lo sapevo che avessimo un ghetto a Genova compreso il fatto che ognuno debba fare di di come il pregno porco il tuo però padre meno perché lui era anti feels ok man clap comunque siamo siamo nella zona del centro qua comunque non siamo lontani dai cagatoi e pisciatoi e hyperbra e c'è il ghetto e quanti tagli era un raddoppio della D omosessuale perché ancora non era quello di etero può essere sentirti donna sentirmi diverso dagli altri 10 del mattino sbirra e sfac essere solo nell'universo conti qualcosa nel periodo di te bambina un bambino un chiarichetto un ragazzo che studiava molto molto diligente a scuola chiarichetto il posto più infame di tutta Genova eccolo eccolo cos'è cos'è il posto più infame questa piazza non è nata come piazza infatti fino a pochi anni fa non aveva un nome perché questa si è formata per un bombardamento era rimasto questa specie di buco ma che schifo Genova il rifugio di tutti i tossici no il rifugio della chat dono 10 a uno streamer che se continuerà a vedere questo video verrà bannato a Hyperlul davvero Defoe perché che cosa c'è dopo non credo che dopo la facciano vedere nuda ok ma non credo no non credo non credo il nostro rifugio feels ok man clap infame princesa non princess ma non dire ma suo agio l'amore è l'amore vabbè direzionalo dove vuoi tu voi trans siete i miei apostoli don Andrea Gallo cosa succede a Genova perché Genova è sempre una meme perché trans siete i miei apostoli facciamo un passo indietro i miei non sapevano più cosa fare mi hanno portato dal dottore il dottore mi ha si ammalò barbancicicocco si ma noi vogliamo il content eccolo il cagatore il pisciatoio moltissimi genovesi pochi toscani la maggioranza napoletani calabresi siciliani pugliesi che erano scappati dalle loro città di un gallo spesso non è che se ne erano andati le famiglie li avevano cacciati picchiati e cacciati fuori di casa quando negli anni 60 ancora c'era una legge che permetteva l'arresto solo per farsi trovare labidi femminili avevate un modo per avvertirvi quando arrivava la polizia guardate il ghetto incredibile di genova comunque guardate il degrado quando arrivava la polizia c'era un vocabolo cer voleva dire un po' tutto cer voleva dire una persona che non va bene che è da evitare cer voleva dire la polizia cer voleva dire una situazione negativa debba era il contrario ho capito la polizia se n'è andata la persona è giusta il cliente è un ottimo cliente e poi ma è una prostituta ma non l'ho mai visto nel senso in realtà scherzavo ma quella frase avere il figlio omosessuale è un disonore non credo piaccia twitch ma no vabbè ma c'è gente bannata per molto meno poi la faccia di quella forma di vita è da ergastolo allora no defo qua lui stava è come no qua stava parlando di secondo me invece di rifarsi le tette doveva rifarsi la faccia not like t sì ok ok ho capito che non vi piace la faccia l'ho capito grazie defo e grazie mano sono d'accordo il punto è che secondo me no in questo caso no per il semplice fatto che è lui che sta parlando cioè lei vabbè è loro che sta parlando non so che pronome voglio it che sta parlando di del passato di come venivano pensate queste persone non sono io che sto dicendo queste cose noi avevamo sono venuti qua quando ero in questo quartiere sì ma a chi ti riferisci? mi riferisco a tutti i preti clienti che ho avuto tanti preti clienti il prete bestemmio i preti clienti i preti bestemmio mi riferisco a tutti i preti clienti che ho avuto tanti preti clienti il prete bestemmiatore il prete bestemmiatore era un prete che arrivava al mattino molto presto era ancora a letto mi svegliava si tirava giù i pantaloni lasciava le natiche allo scoperto metteva tutti i santini sul letto madonna santo san luisio e cominciava a sputare sui santi e bestemmiava e io dovevo frustarlo sulle natiche fino quasi a farlo sanguinare poi lui si masturbava e finiva la storia poi un giorno non è ancora oltre ha detto che dovevo anch'io bestemmiare sputare sui santi però non vado in chiesa ma non mi permetterei mai di insultare un santo o un cristo e mi sono rifiutato e lui mi ha detto vabbè si vede proprio che non sai lavorare è stroppo a Genova i preti vanno a puttane e bestemmio hyper cosa succede a Genova perché devo vivere in una meme che preti avete a Genova ma lui è ritornato è ritornato mi ha suonato il campanello dal basso e mi sono affacciata l'ho visto che era lui ho preso una bacinella d'acqua e l'ho rovesciata tutta in testa ma stira così vabbè ma nessuno ci crea le leggende ed è scappato altri preti era un prete giovane che pagava molto bene e ci sono stata 4-5 volte poi mi sono spaventata tu mi stai tentando se è il demonio mi fai fare cose che io non vorrei fare tutte queste cose che non volevo fare per me facevano parte della recitazione e lo assecondavo ti sei mai innamorata di un cliente? no no non mi sono mai innamorata di un cliente che tipo di clienti? ho avuto addirittura dei clienti che mi dicevano io vorrei che vi eliminasse la polizia vi sterminasse tutti ma mica perché io ce l'ho con voi perché io vorrei in questo modo potrei non avere più questa tentazione di venire con voi trans insomma e poi c'è il tipo il tipo dell'imbranato che ha paura di fare tutto timido impacciato e poi c'è il tipo ma quello impacciato e imbranato va con i trans cioè nel senso invece più esperto il tipo molto pretenzioso che pensa solo a se stesso cosa sta dicendo ma quella cosa è slot they go in spogen poogen poogen ho capito si avrebbe dovuto rifarsi la faccia lo so lo so di piacere punto e basta come la bambola gonfiabile devi essere attivo passivo a comando come se fossimo del robot che schiacci il puzzante e ti attivi e poi c'è scusami se mi permetto ma è il vostro lavoro scusami se mi permetto una vasta categoria per fortuna di clienti che capiscono che se vogliono un rapporto decente devono anche contribuire anche loro in un certo modo e fanno l'amore come crista comanda ma non fanno una pasta è vero Defoe è vero eh questa cosa sono curioso vabbè che se ne frea aneddoti dei documenti che se ne frea volevo gli aneddoti dei preti che scopano e sputano sui santi che bello qui è dove c'ho l'università io eh sì questa è la zona del porto antico si riconosce da questi archi qui questa è la zona del porto antico è dove c'ho l'università io che bello che bello quando era un bambino che in campagna era un maiale veniva ucciso è vero tra l'altro vabbè sai come uccidono i maiali mettevano una specie di punteruolo qua nella gola e il maiale si dissanguava perdeva tutto il sangue e poi praticamente moriva per dissanguamento e questo maiale gridava 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 finché aveva forza poi i gridi diventavano sempre più deboli fino i gridi? un po' come questi detenuti li sentivi gridare gridare sempre meno sempre meno poi senti una cosa che non hai mai detto ai tuoi genitori alla tua mamma che facevo travestito ma com'è questa non l'ho mai detta io sono sempre andata dai miei genitori anche quando avevo già il seno schiacciandomi il seno con delle fasce elastiche tirandomi i capelli indietro con il gel vestendomi da uomo e presentandomi in una versione vabbè sta cosa deve essere davvero brutta però faccio un attimo a Genova e basta cose da vedere a Genova a Genova in un giorno la trappola vedete se poi guardate questi video poi Genova sembra anche un bel posto dove vive dove cazzo vivi io mi io mi io mi spaventerei sappiamo sappiamo dov'è l'università andiamo lì e lo seguiamo fino a casa sì ho licato università non volevo in verità in verità non volevo cioè nel senso mi è venuto spontaneo raccontarvelo questa è Genova noi diciamo che non ne vogliamo più noi ne abbiamo già abbastanza in ogni zona sono più loro che noi i nostri abitanti non hanno case invadono le abitazioni sfitte perché non sanno dove andare questi arrivano trappola uguale trep trep uguale trans ah in quel senso trappola allora ok allora ok sì ma vengono ospitati e prendono dei soldi è ora di finirla noi vogliamo rispetto la nostra città è una bellissima città ma non riusciamo più a viverla adesso quest'ora qui in questa via che era vitatissima ed era vissuta adesso è tutto chiuso non ci sono più negozi la gente ha paura a girare e noi non sappiamo più cosa fare vorremmo che lei parlasse delle nostre bellezze parlasse della nostra città della nostra ospitalità e non di continuamente queste cose e ci ho il canale cos'è lega salvini premier come c'è il canto questo canale città è una città bellissima è crozza ma non ci sono interviste inquietanti eccola eccola degrado genova come una toaletta cielo aperto eccola eccola abbiamo trovato il video definitivo allora vediamo questo e poi andiamo su cringe night non so se abbiamo già visto esattamente escono dai bar sì alla sera quello di human centipede e poi logicamente non ce la fanno a scaricchiare scusate ora per chi non lo per chi non lo conoscesse vi devo far vedere il tizio di human centipede perché è identico è assolutamente lui è chiaramente lui non ve lo posso far vedere del tutto ve lo far vedere così quindi a genova ci sono i cagatoi i pisciatoi i preti che sborrano sui santi la sporsessia gli uomini secchi i vecchietti i triardi e poi cosa mi sono perso credo che tu abbia credo che tu sia riuscita a elencare tutto Jessica credo che tu ce l'abbia fatta a elencare tutto Jessica adesso basta che facciamo la strada del 14 dall'università a casa tua no no che ansia no no comunque Jessica hai detto tutto soprattutto gli uomini secchi e scaricano lì dalle camonne holy fuck è uguale pps clap guarda 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 guard bella musica però l'ho visto che appisciato io e cagato io sì perché esempio stamattina vedi c'è ancora qualche qualche segno l'anno in mezzo ed è lui dire poi tutto intorno tutto intorno al muro pochette fuck e lui essere umani cani non ho cani cani ah ok di notte poi ne succede di tutti i colori non c'è umido e non è perché sono un figlio e vado a dormire però rap godito possibile comunque magari il venerdì e saprò sera con la movida qualche ragazzo ho bevuto un po' troppo quell'angolo là è il pisciatoio quanto ci mancava quanto ci mancava come si potrebbe limitare questo problema secondo lei belli ci vuole che chi governa la città di a disposizione che faccia osservare disposizione disposizione in germania e gli stati uniti hanno creato una vernici che riesce a respingere l'urina se potrebbe essere una soluzione respingere l'urina una volta c'era solo il vento pisciare contro il vento era un problema ma che è un po' di gatto di cani foreld e vabbè e si e si e poi c'era quella lì tutta la mia monchessata vecchissimi e sono rovinati da scritte da gente che non ha rispetto per noi italiani ma magari sono anche italiani che ci pisciano non vuol dire niente il pisci genovese è acido che bello che bello ci mancavano ste cose ci mancavano ci mancavano se fosse lui il prete bestemmiatore potrebbe in effetti potrebbe essere lui quello che sborra sui santini eroina handy forse peccato che non l'hanno capito tutti mi sa però bellissima forse sta qua bellissima eroina handy allora avviamo un comedy night ok eroina handy allora è giunta l'ora del cringe ragazzi it's cringe time siete pronti? ragazzi dato che vi ho lasciato due settimane di tempo di attesa farò scegliere a voi praticamente tutto quanto è giunta l'ora del cringe Grazie.